ultimamente abbiamo dibattuto molto sul fatto dell'altezza in moto molti di voi dicono che se siamo più alti è più facile fare certe manovre io nei miei corsi cerco sempre di trasmettere che la tecnica invece ci aiuta nelle situazioni più disperate e quando ci troviamo in situazioni particolari dove magari c'è il rischio di appoggiare la moto è lì che viene la tecnica il nostro soccorso ovviamente come ho già detto ci sono certi casi ma sono casi certi casi dove l'altezza ci può aiutare ma sono casi limite casi estremi dove nella guida di tutti i giorni nell'uscita fuori strada nel viaggio in due non troveremo mai anzi se ci troviamo in quelle circostanze che vedremo a breve abbiamo sbagliato noi in certe circostanze non bisogna mai trovarsi quindi l'errore ricade sempre su di noi quindi una tecnica sbagliata perché la tecnica fa anche parte la lettura del terreno cosa che si insegna durante i corsi e dico sempre se c'è una zona che non conosco non so se riesco a tornare indietro con la moto è meglio scendere dalla moto e andare a vedere questo succede soprattutto in fuoristrada ci siamo infilati in un sentiero subito ci siamo accorti che non era fattibile però ho detto ad Antonio visto che siamo in due io provo a proseguire sicuramente dovrò tornare indietro ci provo ho la tecnica ho la preparazione fisica sono alto vado ma soprattutto siamo in due se succede qualcosa mi aiuti tu la moto la tiriamo fuori se mi cade la moto addosso siamo in due riusciamo comunque a tirarci fuori dai guai ecco nel video che vediamo è uno di quei casi dove si la tecnica forse mi aiuta scusate l'altezza forse mi aiuta infatti andremo a vedere che di tecnica ce n'è veramente poca c'è più che altro forza fisica pazienza è un po di pazzia quindi ragazzi io vi aspetto sempre nei commenti e godetevi questa questo piccolo video questa avventura che ripeto è stato un errore trovarsi in quella condizione in quella condizione ovviamente eravamo in due e ci siamo avventurati perché anche bello divertirsi ma quando siamo soli mi raccomando certe situazioni evitiamole non andiamo scendiamo dalla moto controlliamo se il percorso è fattibile ma soprattutto se possiamo tornare indietro con le nostre forze e buon video ciao motosicletativo e ci insegna come uscire da questi problemi pensavamo ci fosse ci pensavamo ci fosse un sentiero invece niente non c'è niente ok proprio wide non ho mai visto il maestro leva cadere o appoggiare la moto penso e spero che questa sia la prima volta spero perchè mi farei tante di quelle risate la nostra preoccupazione è che sulla sinistra ci sia un canale fluviare quindi non possiamo saldare più di tanto questa è la tecnica pompa le sospensioni il ritorno quindi l'interiore ti dai peso sulla sospensione freni e ti dai contro al corpo diciamo ovviamente mentre vi riposo questa posso dire sì se siamo un po' più alti ci aiuta perchè qua non c'è tecnica no solo forza e forza e forza un po' di allenamento fiato soprattutto ovviamente se mi sono messo in queste condizioni e perchè mi sono fidato troppo di me stesso la strada è chiusa quindi sapevo che in caso di problema avrei dovuto girare la moto con estrema fatica è normale che se non sono preparato non mi infilo neanche in questa condizione questo va a girare nel frattempo coltiva il mazzo diciamo che abbiamo anche azzardato in quanto eravamo in due quindi mali estremi tiriamo la moto dietro a peso insomma ci sono riusciamo a girata ora vediamo un po' io maestro continuo nelle riprese perchè sono speranzioso in una sua caduta eh beh si ci spero potevo darle la mano forse è il caso che gli diamo la mano no no aspetta ce la devo fare da solo perchè se in caso di un'escursione o una cazzata che facciamo da soli se c'è la possibilità cerchiamo di trovare una soluzione se no in due si risolve ah ecco eravamo il pezzettino di da mosecco comunque Dani alle spalle dietro c'è un po' di di terreno non troppo perchè poi sono tutte erbacce in qua c'è la non più si sente anche odori di finocchietto selvatico quindi anche piacevole questa questo come si dice questa pausa c'è qualcosa dietro c'è qualcosa è il finocchietto selvatico è questo è il finocchietto selvatico aspetta che lo tolgo via vai minchiodore se la spingo io da quella patta la devo fare da solo guarda cosa faccio horn out e cerco di fare perno oppure la spengo non 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 ok in tutto questo si intravede la mia bellissima g7 da quella parte quel blu che si vedeva malapena che dà fastidio no non la doggere perché altrimenti i naturalisti gli ambientalisti si lamenteranno è una pietra è una roccia niente mi diciamo in cappatini degli scavi romani a quanto sembra buono no no buono danni dacci proprio lo strancio forte se ce la fai per dietro ok bravo vai un po dietro eventualmente casi nel posto come vedete io avrei potuto tranquillamente dare dare una mano a daniele questo però che dimostra che non bisogna mai avventurarsi più di tanto o comunque non nelle stradine che non si conoscono quando si è da soli e che comunque bisogna sempre perseverare certo lui in questo caso la sua forza la sua altezza li è tornata utile ma come avete visto ha sofferto abbastanza situazioni da evitare lo dico sempre nei corsi nei video se non siete sicuri vi fermate e la fate a piedi vedete cosa c'è da affrontare peccato di presunzione penso di essere faccio questo mestiere mi sono istirato in un sentiero che non faceva da 5 su in questo caso e infatti il traggio di un milione c'è stata che ha portato giù di tutto il sentiero verrà infradicabile e quindi il sentiero è chiuso la prima moto l'abbiamo portata giù di tutto la seconda ho voluto per il guide personale girarla da solo non ne vada la pena ma perché formazione per il professionale e per allenamento ho voluto farlo da solo non mettetevi in questa situazione se è in cerco tieni aperto non vale vi fermate scendete a piedi e controllate e guardate così la moto eventualmente la girate in una situazione comoda diciamo che questo è uno dei pochi casi in cui veramente altezza e forza fanno sì di riuscirne sì ci sono avventurato per quello eravamo anche in due eravamo in due soprattutto da solo non l'avrei fatto eravamo in due ero sicuro delle mie forze ho detto vado aspetta avrei avuto meno difficoltà se avessi avuto magari le tassellate questa è una gomma stradale ragazzi grazie per essere arrivati fino a qua ciao ciao ragazzi ciao